Quale impatto sull'agricoltura italiana stanno producendo gli effetti della globalizzazione, la repentina evoluzione delle normative nazionali ed europee, le richieste di un mercato di consumatori sempre più consapevoli ed esigenti? Il convegno organizzato a Barletta dalla Timac Agro Italia, azienda leader nella produzione di fertilizzanti, cerca di rispondere a questi interrogativi mettendo di fronte Confindustria e docenti di università italiane e straniere e chiamando ha raccolta oltre 200 distributori provenienti da tutte le regioni del Sud Italia. Sono 200 tra i nostri più di 500 distributori del Sud Italia che abbiamo invitato qui per parlare del nostro lavoro, il lavoro in agricoltura, il nostro e il loro, che sta cambiando molto velocemente negli ultimi anni e che ha bisogno di essere affrontato con dei nuovi attrezzi. Il convegno è stata l'occasione per ampliare la riflessione sulla vocazione marinara ed industriale di Barletta, città che ospita uno dei più importanti stabilimenti di Timac Agro. Un anno fa sembrò esserne vicino alla chiusura, poi la dirigenza aziendale optò per una soluzione diversa, rilanciando la produzione, operando importanti investimenti sulla sostenibilità ambientale e salvaguardando i livelli occupazionali. Non posso nascondere che effettivamente lo scopo di questo evento vuole anche essere un momento di rilancio dell'azienda dopo questi anni un po' complicati. Grazie agli sforzi di ricerca dei suoi laboratori Timac Agro è in grado di continuare a produrre concimi all'avanguardia rendendo l'azienda vero e proprio punto di riferimento per l'agricoltura nazionale ed europea. L'obiettivo dell'azienda è chiaro, noi ci prefiggiamo di diventare il punto di riferimento per quanto riguarda la nutrizione sul mercato nazionale e sul mercato del bacino del Mediterraneo.